Musica Bentornato Guttler, bentornata Continuiamo nella descrizione del programma Esplora risorse Ora andiamo ad interagire con la sezione centrale Posizionati con il mouse nel pulsante Altre opzioni Genera il menu e clicca su Visualizza per dettagli Noterai che tutti i file all'interno della cartella che hai selezionato nella zona sinistra Si disporranno in senso verticale Con una serie di colonne più o meno ampie Questa serie di colonne presenta un certo numero di parametri Che possono essere il nome, la data, il tipo di file Le dimensioni del file, l'ultima modifica, la data di creazione, la durata Ed altre informazioni, altre colonne, altri parametri Diciamo subito che se clicchi sull'intestazione di ogni singola colonna Potrai ordinare la sequenza dei file In relazione alla colonna che hai selezionato In sequenza crescente o decrescente Se la colonna che andrai ad ordinare, ad esempio, lista dei nomi L'ordine potrà essere alfabetico o al contrario Se la colonna che vorrai ordinare è quella della data Cliccandoci sopra Potrai ordinarla in base alla lontananza o alla vicinanza della data odierna Se invece vai a ordinare i file evidenziati in base alle dimensioni Quindi, ad esempio, questa colonna Avrai un ordine crescente o decrescente In base alla grandezza, alla corposità, al peso del file stesso E così via per tutte le altre colonne Cliccando con il pulsante destro del mouse Nella zona di intestazione In una di queste sezioni Verrà generato un nuovo menu Che ti permetterà di incrementare o decrementare il numero di colonne In particolar modo se clicchi sul pulsante altro Infatti, si aprirà un mondo abbastanza ampio Quindi, una lista lunghissima Di parametri che potrai far comparire a tua scelta Accanto alle colonne già presenti Sarà sufficiente aggiungere un segno di spunta In base alla barra di scorrimento Dicevo, aggiungere o togliere il segno di spunta In base al parametro da visualizzare E alla fine cliccare su OK Potrai anche spostare da questa maschera Su o giù, quindi verso destra o verso sinistra La posizione del parametro che andrai a visualizzare Se hai un numero elevato di colonne Naturalmente queste colonne andranno fuori vista Grazie alla barra di scorrimento che si genererà verso il basso Potrai visionarle totalmente Per una migliore visualizzazione Le puoi anche spostare Quindi dare una sequenza Semplicemente cliccando sulla colonna E spostandola verso sinistra o verso destra A tuo piacere La dimensione di ogni colonna Può anche essere variata Potrai immediatamente adattare la singola colonna Cliccando rapidamente in questa zona Quindi la zona di divisione tra le due colonne Oppure adattarla a tuo piacere Cliccandoci sopra e spostandola verso destra O verso sinistra Oppure più rapidamente Cliccando su questo pulsante Le adatterai immediatamente In base alla lunghezza del nome Della denominazione Se nella lista che si presenta Hai troppi file o troppe cartelle Le puoi filtrare In base a un criterio di visualizzazione Infatti accanto ad ogni intestazione C'è una freccia Cliccando su questa freccia Nascerà un mini menu Che ti permetterà Grazie ad un segno di spunta Di filtrare e quindi visualizzare Soltanto i file Che corrispondono al parametro Che avrai selezionato Quindi su ognuno di questi parametri Potrai generare un menu Che selezionerà un filtro attivo Che limiterà il numero di file O cartelle visualizzate negli elementi Tornando alla sezione in alto Sul lato sinistro Trovi sulla stessa linea Dei criteri di visualizzazione Altri pulsanti Questi pulsanti Hanno la particolarità Di cambiare in numero E in denominazione In base all'elemento Che avrai selezionato Quindi cliccato Se ti posizioni Con il mouse Su ognuno dei pulsanti In visione Avrai una piccola descrizione Di ciò che eseguirà Quel dato pulsante In definitiva In base al numero di file E al tipo di file Che presenta la cartella Che hai selezionato Sulla colonna di sinistra Comparirà quindi Un numero imprecisato Di questi pulsanti funzioni Che ti permetteranno Di eseguire Alcune operazioni rapide Ne ci diamo qualcuno Anche se È praticamente impossibile Evidenziarli totalmente E quindi Lascio a te Alla buona pazienza E alla tua voglia Di smanettare Per scovare Tutte queste opzioni Potrai vedere Tra gli altri Il pulsante Apri Che ti permetterà Di aprire Con il programma Predefinito Quel determinato Tipo di file Oppure un altro programma Che si genera Dal menu Creato dal pulsante A forma di freccia In basso Adiacente al pulsante Stesso Altro pulsante È Presentazione Che ti permetterà Di visualizzare Proprio come Una presentazione Una sequenza Di immagini O video I file presenti All'interno Della cartella Un altro pulsante Masterizza Che ti permetterà Di masterizzare Quindi copiare Le cartelle I file selezionati Direttamente Su un disco Poi c'è Il pulsante Stampa Che in pratica Invia Il file O i file Selezionati Direttamente Alla stampante Ricordati Di accenderla Naturalmente Altro pulsante È la posta elettronica Che ti permetterà Di inviare I file selezionati Come allegati In un messaggio Di posta elettronica Quindi per via E-mail Un altro pulsante Che frequentemente Utilizzerai È denominato Nuova cartella Che ti permetterà Di generare Immediatamente Una nuova cartella Nella colonna Selezionata Condividi con Permetterà Naturalmente Di condividere Gli elementi Selezionati Con altri utenti Della rete Se il tuo computer Fa parte Di una rete Estrai tutti i file Permetterà Di estrarre I file Che sono contenuti All'interno Di un elemento Che sarà Naturalmente In formato Compresso Quindi Scompatterà I file contenuti All'interno Di quel file Compresso Altra Opzione È Esegui tutti Ossia In pratica Selezionando Un certo numero Di file Avrai l'opportunità Di creare In maniera Molto rapida Una scaletta Di riproduzione Audio e video Senza badare Un po' troppo All'ordine Puoi trovare Anche Includi Nella raccolta Che non è Nient'altro Che Inviare In una cartella Chiamata raccolte Tutti i file O cartelle Che hai selezionato Con il pulsante Organizza Vedrai generare Altre opzioni Tra cui Il layout Al cui interno Compare La scritta Barra dei menu Che porterà in vista Proprio la barra Dei menu Nella quale Potranno Comparire Altri pulsanti Quindi All'interno Della barra Dei menu Potranno comparire Altri pulsanti Come File Modifica Visualizza Strumenti E Un punto interrogativo Che in pratica Dà alcune informazioni In ognuno di questi Menu Potrai visionare Altre opzioni Variabili In base All'elemento Che hai selezionato E In base Anche Ai programmi Che installerai Nel tuo sistema operativo Alcune opzioni Particolari Le potrai Rilevare Sotto Il menu Modifica Che sono Annullare L'operazione Appena eseguita Che può anche essere Attuata Tramite la sequenza Dei tasti Control Più Z Contemporaneamente Oppure ripetere L'operazione Appena annullata Precedentemente Ripetibile anche Grazie alla pressione Dei tasti Control Più Y Oppure Potrai copiare Il file O i file Che hai selezionato Riplegabile Grazie alla pressione Dei tasti Control Più C Quindi Creerai Una copia Che Verosimilmente Poi trasferirai In un'altra cartella Taglia il file E' un'altra opzione Che potrai Anche Realizzare Grazie alla pressione Dei tasti Control Per spostare Tutti questi file In un'altra cartella Quindi toglierli Da una posizione Ed inserirli In un'altra posizione Incolle il file E' la naturale Conseguenza Di un copia O un taglia Che ti permetterà Di trasferire O copiare I file Da una precedente posizione Ad una nuova posizione Questo comando E' anche attuabile Semplicemente Premendo i tasti Control V Sulla tastiera Contemporaneamente Altro pulsante Di questa sezione E' Selezionare Tutti i file Di una cartella Non farà altro Che selezionare In maniera automatica Tutti i file Che sono presenti Alla cartella Che hai selezionato Sulla colonna di sinistra Invertire La selezione Rispetto ai file In precedenza Certi Quindi Se hai scelto Alcuni file All'interno Di una cartella E decidi Di invertire La selezione Quindi cambiarli Senza Deselezionare Quelli precedentemente Selezionati E riselezionare I nuovi Tramite questo pulsante Potrai attuare In maniera rapida Questa opzione Infine Potrai copiare Potrai copiare Anche premendo Anche premendo Il tasto F1 Presente Sulla tastiera Quindi Avvierai La guida In linea Di Windows Che ti permetterà Di imparare E leggere Altre funzionalità Che non sono Magari evidenziate In maniera Così trasparente Altra opzione Che troverai Sotto il pulsante Indicante Il punto interrogativo È verificare L'autenticità Della copia di Windows Cosa che abbiamo Già fatto In fase di attivazione Comunque Infine Ottenere Informazioni Sulla versione Del tuo sistema Operativo Qualora L'avessi Dimenticato Allora Cutler Riprendiamo Da dove Eravamo rimasti Proseguendo Nella descrizione Delle opzioni Presente All'interno Del programma Esplora Risorse Allora Prima di tutto Andiamo a Selezionare Una visualizzazione Tramite Dei dettagli Per una Più corposa Presenza Di parametri In visualizzazione Andiamo a Sceglierci Una cartella Per visualizzare I file Della nostra Guida al computer All'interno Di questa cartella Vedi Una serie Di lezioni Della guida Al computer Nella zona In alto Trovi L'intestazione Della singola Colonna Se clicchi Sopra L'intestazione Potrai Ordinare I file In base Alla colonna Supponiamo Di cliccare Sulla colonna Denominata Nome Potremmo Ordinare La lista In senso Crescente O decrescente Per quel che riguarda Un ordine Alfabetico Se clicchiamo Su dimensione Possiamo Ordinarla In ordine Crescente O decrescente In base Alla corposità Del file Oppure In base Alla durata E così via In base A qualsiasi Parametro Che tu Sceglierai La dimensione Di ogni singola Colonna Può essere Variata In questo modo Come meglio Credi Oppure Puoi Ottimizzarne La visualizzazione Cliccando Rapidamente Nella zona Di revisione Tra una colonna E l'altra Oppure Ancora meglio Puoi Creare Un Adattamento Rapido Per tutte Le colonne Semplicemente Cliccando Con il pulsante Destro In una zona Della Bara Dove c'è La denominazione Delle varie colonne E cliccare Sul pulsante Adatta Tutte le colonne Immediatamente Tutte le colonne Che in quel momento Avrai In visualizzazione Saranno Ridimensionate In maniera Opportuna Come dicevamo Durante la parte Teorica Dopo che hai Creato Un ordine O anche A prescindere Dalla Creazione Dell'ordine Puoi notare Che accanto Ad ogni colonna E' presente Un pulsante A forma di freccia Se clicchi Su questo pulsante Si genera Un menu Filtro Che ti permetterà Di ridurre Il numero Di file Da visualizzare In base Al filtro Stesso Supponiamo In questo caso Di voler Filtrare Tutti i file All'interno Della colonna Nome Che Abbiano Una corrispondenza Di lettere Iniziali Tra l'A E l'H Sarà sufficiente Cliccare Su questo pulsante E immediatamente Avrai La visualizzazione Filtrata Puoi anche Decidere Di filtrarlo In base A un Parametro Di dimensioni Compreso Tra i 10 100k 1 16 Mega O da 16 Mega 128 Mega Byte Questo In base Alle tue Decisioni Oppure In base Ad una Data Oppure In base Al tipo Quindi Se hai Un numero Di file Molto ampio Potrai Ridurne La visualizzazione Per individuare Il file Che ti serve Grazie a questi Filtri Per fare un esempio Molto semplice Andiamo a Filtrare La visualizzazione In base Alla durata Supponiamo Di voler Visionare Soltanto I file Che hanno Una durata Compresa Tra 1 E 5 Minuti Immediatamente Vedi Hai la visualizzazione Di soli Due file Cambiamo Valore Del filtro Impostando Tra 5 E 30 Minuti Oltre a Quelli Da 1 E 5 Togliendo Il segno Di spunta In questa sezione Da 1 E 5 Verranno Esclusi Dalla visualizzazione Tutti i file Che hanno Durata Inferiore 5 Minuti Torniamo Ad una Visualizzazione Completa Se vuoi variare Il numero Di colonne Da visualizzare Sarà sufficiente Aggiungerli Cliccando Con il pulsante Destro E Deselezionare Quelle Già Mostrate O selezionare Quelle Non evidenziate Oppure Accedere A un menu Più ampio Grazie Al pulsante Altro Tu potrai Scorrere Una lista Lunghissima Di parametri Aggiungendone O togliendone Alcuni Per poter Migliorare La visualizzazione Ed ottenere Più informazioni In base Al parametro Che andrai A scegliere Supponiamo Di aggiungerne Due Tre A caso Vedrai Che compariranno Altre colonne Che puoi Andare A visionare Semplicemente Spostando La barra Scorrimento Potrai Anche Spostare La posizione Delle colonne A tua scelta Semplicemente Cliccando Sull'interstazione Spostandola In un senso O nell'altro Riposizioniamole Come era In precedenza Per proseguire Nella descrizione Eccoci qua Più o meno Avrai notato Che in questa zona Ci sono Altri pulsanti Ogni pulsante Mostra Posizionandoti Sopra Una piccola Descrizione Di ciò Che eseguirà Ma comunque Potrai Testare Le funzionalità Dei singoli Pulsanti A tuo piacere Alcuni pulsanti Come puoi vedere Presentano Altri Menu Che ti permetteranno La variazione In incremento O in decremento Di pulsanti E barre Oppure Variare Anche la visualizzazione Presente in quel momento In questo caso Tramite il pulsante Layout Comparirà un menu Che ti permetterà Di variare La visualizzazione Come in parte Abbiamo visto Grazie a questo pulsante Oppure comparire O far scomparire La barra di menu Barra di menu Che presenta Un'altra lista Di funzioni Più o meno Ampie Che ti stimolo A visionare Per piacere E conoscenza Personale Ma in sintesi Diciamo che In base Alla cartella E ai file Che avrai selezionato Potrai Generare Una serie Di pulsanti Che ti permetteranno Di ottimizzare L'uso O la visualizzazione Dei file O Ancora meglio Avviare Il programma Il file O La serie Di file In base A dei programmi Che tu potrai Scegliere In questo caso Ho evidenziato Un file Video Tramite il menu Che si crea Sotto il pulsante Riproduci Puoi decidere Di avviare Quel determinato file In base A un lettore O all'interno Di un browser Oppure potrai Decidere Di creare Una scaletta In questo caso Cliccando sul pulsante Segui tutti Oppure selezionarne Un numero Adiacente Oppure Grazie Al tasto Control A caso E riprodurre I file Che hai selezionato Quindi creare Una scaletta Molto rapida Multimediale Di audio e video Senza Curare troppo I particolari Il pulsante Masterizza Può masterizzare Ad esempio Quello che hai selezionato Direttamente Su disco Il pulsante Nuova cartella Potrà creare Una cartella Immediatamente All'interno Della cartella Che hai selezionato Una volta Che avrai deciso Di selezionare Un certo numero Di file Li potrai Organizzare Come meglio credi Tramite Alcune Opzioni O controllare Le proprietà Dei file Proprietà Che puoi anche Evidenziare In questa Colonna In basso In questo caso Avrò selezionato 11 elementi Con una durata Totale Di 1 ora E 34 minuti Una dimensione Totale Di 125 MB Ed altre informazioni Che potrai Visionare Di volta In volta In questa sezione Oppure Grazie Alle colonne Che avrai Deciso di Visualizzare All'interno Di esplora Risorse Nella barra Di menu Come abbiamo visto Ci sono altri pulsanti File Modifica Visualizza Strumenti E questo Punto Interrogativo Ogni pulsante Genera Una serie Di menu Che più o meno Possono Ricalcare Il menu Che si genera Grazie Al pulsante Testo Che vai A posizionare Su un file Per avviare Alcune operazioni O visionare Alcuni parametri Particolare Attenzione Io la Terrei Sul pulsante Modifica Che presenta Anche se non Evidenziati In questo momento Il pulsante Annulla Ripiegabile Anche grazie Alla pressione Del tasto Control Più Z Che in pratica Annulla L'operazione Precedentemente Eseguita L'ultima operazione Eseguita Il pulsante Ripeti Che porta in vita L'ultima operazione Che avevi Precedentemente Annullato Il pulsante Taglia Che permette Di eliminare I file O le cartelle Selezionate Da una zona Di esplore risorse Ad un'altra Oppure all'interno Di un altro dispositivo Il pulsante Copia O control C Ti permetterà Di creare Una copia Momentanea Dei file Selezionati Che poi Diventerà Reale Nel momento In cui deciderai Di posizionarla In un'altra Sezione Di esplore risorse O all'interno Di un altro Dispositivo Grazie All'opzione Incolla O replicabile Tramite la pressione Di tasti CTRL V L'opzione Seleziona tutto Ti permette Di selezionare Immediatamente Tutti i file All'interno All'interno Della cartella Che hai selezionato Nella zona Di sinistra Come puoi vedere La creazione Di pulsanti All'interno Dei menu Non è standard Ma è dinamica In base Ai file Che hai selezionato Qui puoi vedere Che è sicuramente Diverso Rispetto a quella Appena vista Quindi detto ciò È abbastanza Improponibile La descrizione Completa Di tutti i pulsanti Che di volta in volta Si vengono a generare Tra i vari Menu Presenti All'interno Di Explorer Risorse Lascio a te La voglia Di smanettare E visionarli Per scoprire Pulsanti Che attualmente Non vengono descritti All'interno Di questa lezione Termino Con la possibilità Di darti Indicazioni Di questa Sezione Che è quella Di attuare Di avviare La guidalina Della Microsoft Che ti permetterà Di scegliere Alcune categorie Didattiche Che ti permetteranno Di comprendere Meglio La funzionalità In questo caso Specifico Della gestione Delle cartelle E dei file Altra opzione È La verifica Di autenticità Che abbiamo già visto Nell'attivazione Oppure Informazioni Sul sistema operativo Che in questo caso Come ben sapevi È la versione Ultimate Con Service Pack 1 Inserito Nella prossima lezione Terminerò La descrizione Del programma Esplora Risorse Ora un forte saluto Ciao a presto Da Carlo E dalla prossima Ciao a presto Ciao a presto Ciao a presto